Buonasera a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24. Apriamo con l'operazione antimafia che ha portato all'arresto di presunti esponenti delle cosche vibonesi Soriano e Mancuso. Soriano e Mancuso, due nomi che nel vibonese ma anche nell'intera Calabria incutano paura soprattutto alle persone oneste. Ma oggi su questi nomi ci si potrebbe mettere qualche petrolina sopra, soprattutto dopo l'operazione dei carabinieri che ha fatto luce su numerosi atti intimidatori contro imprenditori residenti di Filandari, Ionadi e Nicotera tra il novembre del 2017 e il febbraio del 2018. Si tratta di sette danneggiamenti additti con colpi di arma da fuoco, oltre a un danneggiamento contro auto, sempre con colpi di arma da fuoco, due incendi di veicoli di commercianti e imprenditori, un furto ai danni di una gelieria e soprattutto la pianificazione di un attentato alla caserma dei carabinieri di Filandari con un ordigno oppure semplicemente con dei colpi di arma da fuoco. Inoltre un agguato contro il capo della cosca rivale, gli accorinti di Zucchi. L'operazione Nemea ha portato in carcere il capo dell'Andrina, Leone Soriano. Con lui Francesco Parrotto e Giacomo Cicchelli, bracci operativi insieme a Giuseppe Soriano già in carcere per altri motivi, quindi Luca Ciconte, Graziele Silipigni e Caterina Soriano che si occupavano della gestione di armi e stupefacenti ed Emanuele Mancuso che ha partecipato a un atto intimidatorio oltre che a offrirsi di pagare l'avvocato per un membro del clan. Questa notte si è proceduto ai fermi proprio perché abbiamo avuto l'urgenza e c'era anche il pericolo di fuga di questi sette arrestati perché avevano in mente, stavano organizzando concretamente di lanciare una bomba contro una caserma dei carabinieri. Questo è per noi inconcepibile, impensabile. Le parti non si toccano, del processo non si toccano, magistrati, forza dell'ordine, avvocati, giornalisti, tutti quelli che stanno attorno al processo, che sono già di per sé sovraesposti per la delicatezza e l'importanza del lavoro e del ruolo che hanno attorno al processo. Nessuno può pensare, nemmeno nel subconscio, di preparare attentati o di organizzare attentati contro queste parti che stanno attorno al processo e quindi questa notte era urgente intervenire. Una giornalista ha stimolato anche, ha ricordato che i carabinieri hanno abbattuto un drone perché queste organizzazioni criminali ormai sono più organizzazioni criminali e hanno diversi droni che li utilizzano per controllare le forze dell'ordine per controllare a loro volti il territorio. Quindi è un'organizzazione criminale abbastanza agguerrite, abbastanza pericolose e proprio per questo bisogna essere sempre pronti, attenti a rispondere punto su punto perché noi vogliamo riappropararci del territorio della provincia di Vibo Varenza e che riteniamo una delle province più alte in questa mafiosa d'Italia e proprio per questo ho pensato di mettere tre sostituti procuratori di DA per la provincia di Vibo Varenza e mettere soprattutto la grande attenzione che ha il mio aggiunto Bombardieri. Inoltre nella provincia di Vibo Varenza ci sono forse dell'ordine di primissimo piano, di grande qualità come lo hanno dimostrato oggi per l'ennesima volta i carabinieri del comando provinciale di Vibo Varenza. E a proposito dell'operazione denominata Nemea abbiamo raccolto le dichiarazioni di Gianfilippo Magro, comandante provinciale carabinieri e Giovanni Bombardieri, procuratore aggiunto di Catanzaro. Il clan soriano di Filandari dopo una prima battuta d'arresto in seguito all'operazione Ragno del 2011 si era ricomposto e l'operazione odierna che ha portato all'arresto di bene otto persone che a vario titolo stavano mettendo a ferro e fuoco il territorio era indispensabile per l'incolumità di molti. Un'operazione importante e urgente non solo per l'incolumità dei carabinieri di Filandari ma anche per tutte le forze dell'ordine che operano sul territorio soprattutto per liberare due porzioni importanti della provincia di Vibo Valencia, Filandari e Ionadi, da un gruppo criminale, violento, spregiudicato che in pochi mesi ha messo a ferro e fuoco questa porzione di territorio con un numero impressionante di episodi, veramente di una violenza inaudita. Possiamo definire l'andrangheta un po' come una fenice? Si pensa magari di averla sconfitta con determinate operazioni e invece per la sua capacità di modificarsi all'interno rinasce quasi più forte di prima? Sicuramente quello che è avvenuto ad esempio nel territorio di Lanezia dove sono state una serie di operazioni serrate nei confronti delle cosche storiche dell'aria che hanno portato poi ad una serie di operazioni nei confronti delle cosiddette giovani leve. Questo avviene anche a Vibo Valencia, avviene anche a Crotone dove c'è uno spazio libero di controllo del territorio da parte delle forze criminali, lì c'è un tentativo da parte di chi rimane fuori da persone giudiziarie, da guerra interna alla criminalità stessa di riappropriarsi di quello spazio libero. Ciò avviene anche qua. Qua abbiamo assistito in realtà dopo la scarcerazione di Soriano Leone al suo tentativo violento, aggressivo, arrogante di riappropriarsi con metodi violenti di quel territorio, addirittura ideando attentate anche nei confronti di altri esponenti della criminalità e non arrendendosi ai controlli quotidiani che le forze di polizia svolgevano nei loro confronti, anzi reagendo in maniera veramente violenta e temibile con ideando attentati, addirittura di istituzioni come una caserma di carabinieri dell'aria. Questo ha reso necessaria una risposta che è la risposta dello Stato che è uno Stato presente e questo dimostra la capacità di controllo di queste organizzazioni criminali vecchie e nuove dimostra che lo Stato è comunque presente. Oggi noi abbiamo affrettato i tempi perché nell'ambito di un'indagine che già era in corso da tempo abbiamo dovuto adottare dei provvedimenti urgenti sia per il pericolo di fuga che per il timore che ci potesse accadere qualcosa di irreparabile. Ma è comunque un elemento che dà conto del controllo che lo Stato esercita su questi territori. E ora ci spostiamo a Reggio Calabria dove abbiamo raccolto la testimonianza di un cittadino che ci ha raccontato come non ci sia ancora nessun inizio di lavori previsto in piazza Sant'Anna. Un 5-6 giorni fa è arrivata un'email a Monsignor Antonio Morabito che gestisce la chiesa di Sant'Anna da parte del sindaco dove illustrava tutta la situazione della consegna dei lavori della piazza e alla fine c'era scritto che aspettava la cittadinanza stamattina alle 10 in piazza per illustrare i lavori di rifacimento di questa piazza. E' successo che alle 10 eravamo insieme a Monsignor Morabito qui in piazza, sono fatte le 11, è fatto mezzogiorno, non è arrivato nessuno e non hanno avvisato nessuno e Monsignor ha avuto un malore dove è dovuta intervenire l'ambulanza anche per il nervosismo a ricoverarlo ai riuniti. Speriamo che non sia niente di grave, però vogliamo ancora una volta dire che questa amministrazione non ci può trattare in questo modo lasciando i cittadini in balia di questa situazione a meno avvisare che non sarebbero intervenuti stamattina e non lasciare persone qui appese per due ore sotto il sole che poi succedono anche quelle situazioni di Monsignor Morabito. Oggi dovranno partire i lavori qui, oggi questa mi sa che è una lettera istituzionale col numero di protocollo mandata dal sindaco Falcomatà dove dice che ci aspettava stamattina per illustrare alla cittadinanza e alla stampa tutti i dettagli dell'intervento di riqualificazione di questa maledetta piazza che è combinata in questa situazione. Non si è visto nessuno. A Cosenza molti parcheggi destinati alle due ruote vengono occupati da automobilisti indisciplinati. Sentiamo. Da qualche tempo a questa parte nella città di Cosenza anche i motociclisti hanno la possibilità di poter parcheggiare loro moto e motocicli in parcheggi a loro riservati. Parcheggi che per lo più si trovano nella immediatezza di uffici pubblici ed in modo particolare di fronte al tribunale della città Abruzzia anche perché molti avvocati solitamente parcheggiavano i loro mezzi a due ruote sul marciapiede in prossimità delle scale d'ingresso. Un uso che oltre alla istituzione dei parcheggi è stato anche inibito altrimenti c'è il rischio di ritrovarsi con la tanto temuta ricevuta verde. Saranno circa 15 i parcheggi riservati alle due ruote di fronte al tribunale che però sistematicamente vengono occupati da automobilisti indisciplinati che nonostante la presenza del cartello che parla chiaro occupano due o tre posti con le loro auto. Molti di loro sul parabrezza esibiscono permessi di tanti tipi dalla classica parking car, dall'autorizzazione di servizio, insomma dei veri e propri scamotage per cercare di poter parcheggiare la loro auto in un posto però vietato visto e considerato che in migliaia quotidianamente tra avvocati e non si recano in tribunale. Una violazione di una mancanza di senso civico che nonostante il sanzionamento con la multa non tende a diminuire come dimostrano le immagini. E cambiamo nuovamente argomento celebrata anche dalla CIF di Cosenza la tradizionale giornata internazionale della donna. Grazie a te donna per il fatto stesso che sei donna. Sono queste le parole di Papa Giovanni Paolo II che da oggi risuoneranno a Cosenza precisamente il largo Francesco Midulla grazie all'iniziativa del CIF del capologo Bruzio che ha deciso anche di piantare una mimosa simbolo di una festa il cui vero significato va colto e mai banalizzato. Piantare una mimosa oggi è proprio il simbolo della vicinanza e delle conquiste delle donne all'interno di quella che è una società che a tutt'oggi secondo anche le Nazioni Unite non è in grado di avere una vera parità fra i sessi che è prevista come obiettivo per il 2030. Una parità inseguita è fortemente voluta. Tanti passi in avanti sono stati fatti ma ne restano tanti altri ancora da compiere. In realtà io ritengo che sia un punto buono perché la figura della donna ormai all'interno non è solo vicina come quando è nato il CIF nel 44-45 a quelle che sono le istituzioni ma in realtà è presente all'interno delle istituzioni, delle imprese e anche in diversi posti di rilievo. Sicuramente stiamo conquistando e stiamo lottando perché anche oggi sentiamo sempre parlare di femminicidio e anche parlare di femminicidio è in realtà una disparità perché purtroppo sono tutti omicidi. Ha emozionato il pubblico del moderno di Vibo Valencia l'opera scritta e recitata da Melania Giglio che rievoca la vita e la musica della grande cantante francese Edith Piaf. La stagione teatrale al moderno di Vibo Valencia ha regalato stavolto uno spettacolo incantevole. Melania Giglio e Martino Duane hanno conquistato e commosso con il racconto dell'ultimo concerto di Edith Piaf. È stata una serata speciale questa inserita in cartellone dal direttore artistico della stagione Maria Teresa Marzano perché la messa in scena per la regia di Daniele Salvo ha saputo accogliere i momenti intensi nella raccontare questa diva indomabile per eccellenza. Carismatica, dispotica, talentuosa e fragile, malata, nevrotica ma sempre, inesorabilmente verrebbe da dire, fascinosa. Edith Piaf si è imposta anche al di là della sua voce e delle memorabili canzoni che ha lasciato. La sua personalità, la parabola della sua vita, il difficile rapporto con la madre, il complicato rapporto con gli uomini, la solitudine, ne hanno fatto una leggenda che Melania Giglio con lo spettacolo riesce ad umanizzare. La presenza discreta quanto essenziale, quasi fosse voce narrante di Martino Duane nei panni dell'impresario Bruno Coquatrix spezza e dà respiro al clima tesissimo della performance di Melania Giglio che ha scritto anche il testo, dove si rappresenta non solo una follia, ma anche la vertiginosa discesa di una grande donna che in scena ritrova la grandezza della sua arte che l'ha trasformata in mito. Una prova d'artista e cimentarsi con un mito non è semplice. No, no, infatti è una bella responsabilità, è una bella paura anche, però siamo molto felici perché questa Edith Piaf ci sta regalando delle bellissime gioie e siamo molto contenti di essere tornati in Calabria, a Vibo Valencia, dove c'è una bellissima stagione, insomma, che speriamo prosegua e speriamo ci siano altri appuntamenti per poter ritornare in città. Come si approccia un'attrice di un'anzia, un personaggio e una copiata del genere? Beh, io ho studiato molto, chiaramente ho visto moltissimi video, ho visto moltissimi documentari, ho visto moltissimi film, ho letto tutte le sue biografie, però non ho, diciamo che non ho cercato di farne un'imitazione, cioè non ho voluto fare un processo imitativo, cioè come se volessi fare la coppia perché è impossibile, cioè la Piaf è troppo grande, è troppo conosciuta, è un'artista che ha una personalità troppo forte, cioè è quasi impossibile da imitare. Però quello che mi è piaciuto è accostarmi a lei con grande rispetto, con grande amore e cercare di darne la mia interpretazione, chiaramente essendo il più simile possibile a lei, ecco. Non è un ruolo semplice perché bisogna fare da spalla a un mito e nello stesso tempo, come dire, cadenzare l'intero copione? Sì, in teoria non è una cosa semplice, ma diciamo tutto il lavoro che si vede dello spettacolo viene inventato da un regista, per cui noi seguiamo la visione che lui ha dello spettacolo e tutto sommato seguiamo questo flusso comodamente, sì è vero, è una spalla a un mito, ha una grandissima attrice per cui sono onorato di far parte di questo spettacolo con Melania e con la regia di Daniele che ha fatto veramente un grandissimo lavoro. Lei, Melania, nello scrivere il testo e lui nel metterlo in scena. Prende il via a Crotone un appuntamento molto atteso. Parliamo del tradizionale torneo Sport e Solidarietà. 18 edizioni significa tradizione consolidata. Il riferimento è al torneo di calcio Sport e Solidarietà organizzato a Crotone dell'Associazione e Solidarietà. Un torneo che ha assunto una certa importanza da un punto di vista prettamente calcistico, riconosciuto anche dalle istituzioni sportive, ma l'aspetto prevalente è quello sociale. Sappiamo che questo torneo ha solo finalità benefiche di solidarietà e praticamente si raccolgono dei contributi sulle somme che pagano le singole squadre per l'iscrizione, tutte le spese di organizzazione del torneo e tutto il resto va alla solidarietà. Normalmente noi diamo all'ospedale di Crotone qualcosa, però ci stiamo un po' adesso anche allargando perché la città ha tanti bisogni e quindi man mano che avvertiamo la necessità di intervenire in altri settori noi lo facciamo. Abbiamo quest'anno la novità assoluta che oltre alle componenti solite e storiche del torneo, ossia le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, aeronautica, abbiamo tutte le forze dell'ordine di Crotone, abbiamo anche una squadra di immigrati, per la prima volta hanno chiesto di partecipare al torneo, quindi siamo veramente lieti quest'anno di costituire un piccolo passo in avanti verso questa integrazione che speriamo possa avvenire il più presto possibile e togliere tutte quelle problematiche che purtroppo anche politicamente creano delle contrapposizioni terribili nella nostra popolazione. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto domani sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre, nel frattempo vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it Grazie per essere stati con noi, auguro a tutti una felice serata.